ti sei innamorata del fidanzato di tua sorella che fare ma puoi fare ovviamente quello che vuoi per cui non ci sono questioni morali ognuno è libero di agire come meglio crede non è neanche non avrebbe neanche un senso dare un giudizio però il suggerimento è di vedere come la relazione tra te tua sorella perché sta tutto lì perché se analizziamo da un punto di vista logico è evidente che hai proiettato una tua forma di invidia o di revenge di rivendicazione verso tua sorella per le proiettata e in modo tale da far sì che sia questa proiezione che ti ha fatto coinvolgere col suo fidanzato altrimenti non avrebbe senso la cosa perché al mondo ci sono un sacco di uomini e credere che proprio quello proprio fidanzato di tua sorella sia l'uomo giusto per te di cui innamorarsi è evidente che non non si regge perché è soltanto ciò che tu hai proiettato di rivendicazione nei confronti di tua sorella di cose che magari risalgono a molto tempo prima che ha fatto sì che la tua parte emotiva si coinvolgesse proprio col suo fidanzato è lì che va ha cercato di capire il nodo e va affrontato anche perché è evidente che nel momento in cui diventi l'amante del suo fidanzato oppure il suo fidanzato lascia tua sorella e si mette con te per fare un esempio il rapporto tra te e tua sorella sarà logorato sarà rovinato per sempre probabilmente questo è il desiderio della tua parte emotiva per cui in questi casi è meglio per evitare tutto questo proiettarsi su altre su altre persone rendendosi conto a livello razionale che non è tanto innamoramento ma quanto una forma di rivendicazione bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao